Il regista non c'è. Vedi qua. 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 Questo è il mio. Presento il mio chef. Purtroppo io non ho nessuna colpa. Mi hanno dato questo. E l'ho dato da accettare. Ho pure cazzia. E devo stare zitto. Vedi che cazzo di giustizia. Io faccio questo filmato che vale diretta a signor Peppe Grillo se vuoi intervenire. Perché io non ce la faccio più. Mi mandano a laureare con questi condannati. Al Parlamento Italiano all'estero. Signor Focio faccio una ripresa al condannato Ziki Ziki. E' scappato. Via col vento vai. Signore Zuti cosa sta facendo? Signore Zuti cosa sta facendo? E cosa sta facendo? Dalla grazia. Forse ha fatto la legge. In chiaramente non ci potevamo stare. E se cazzo ha fatto la legge La legge non so. Allora, mi ripresa... Adesso mi fa pure te, ma adesso mi sottifichiamo. Iniziamo a Pauva. Vi consigliamo, signore Zuti. Vai col liscio. Questo l'ho già pulito e ora sarà lui sempre. ammazza o quelle fanno il latte colorato vai con liscio eh vado a vedere non finisce allora vado a mettere il trucco ma vado subito subito se no già sta finisendo la cassetta allora si fa così e poi veloce veloce stira mi avevano promesso di fare il gelatino e mi hanno pregato a frizzare io mi appello al signor Silvio Berlusconi invece di togliere l'icci mi mandasse qualche 100 euro perché ne ho bisogno faccio un saluto a tutti gli amici di Pietra Paola Martino, Luigi, Venanzio guardando un ghiaccio la cassetta con Pierino con il braccio così a fine Battista che io non me lo scordo lui si scorda facilmente ma io non me lo scordo oggi il tempo è nuvoloso non ci resta che piangere l'Aeronautica Militare è presente come dice oggi l'Aeronautica Militare grazie a me l'Aeronautica oggi che tempo fa tempo nuvoloso con la tosse nuvoloso con la tosse con la tosse con la tora con la precipitazione non foggia ogni giorno la vita è una grande po' vita ma la notte no fanno una domanda fanno che ti rispugno ecco una domanda come le gusta la Germania a vosotros? a vosotros me gusta me gusta molto bene mi gusta soprattutto la cica tedesca non la cica delle sigaretze la cica... hai capito la cica contestata? la cica la notte la notte la cica si fuma che è una meraviglia si fuma che è una meraviglia guarda che fa è bella 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 rosa è pieno dice che c'è una pille russe tedesche ma vuole di pillo russo non sono pille russe fammi un caffè per favore il caffè è quello che vuole per la marca? si la mazza più lo tiri giù? no più lo mandi giù e speriamo che si tiri su se no si tira su ci sono due alternative prima il piano e la seconda è tua amica perché non è è bella